Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe Diabia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambe due erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrà gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà dinanzi a lui con lo Spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo, come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. L'angelo gli rispose, io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno a loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva, ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Testo di Vangelo di questo lunedì della novena di chi ci sta preparando al Natale ci presenta la vicenda di Zaccaria e l'annuncio della nascita di Giovanni il Battista. Pian piano i testi della liturgia della parola ci condurranno fino alla culla di Betlemme. Oggi è Zaccaria il protagonista, un testo piuttosto lungo e vorrei fare due osservazioni sul testo che abbiamo letto. La prima osservazione, c'è un paradosso se ci rendiamo conto un po' nel brano che abbiamo letto. Zaccaria chiede di avere un figlio, è lì nel tempio, ha un'apparizione di un angelo, gli dice che le sue preghiere sono state ascoltate, sono state ascoltate anche al di là delle sue attese e lui non crede. È paradossale no questa cosa? Ciò che ha chiesto per una vita gli viene concesso eppure non crede. È interessante no questo confronto e mi veniva questa domanda, ma che cosa vogliamo dal Signore? Cioè vogliamo davvero qualcosa dal Signore? Perché poi la vita di fede è fatta di un giorno dopo l'altro, di una messa dopo l'altra, di un'opera dopo l'altra, anche di tanti tempi ordinari e il rischio è che i nostri desideri si sbiadiscano. Abbiamo tutti i momenti della vita di fede in cui abbiamo dei picchi, in cui ci sembra di avere quelle visioni di insieme, in cui capiamo che cosa vogliamo della nostra vita, in cui comprendiamo cosa vuol dire per noi realizzare il regno di Dio, e ci investiamo energie e chiediamo al Signore la grazia di fare la nostra parte. E poi il rischio è che pian piano non ci crediamo più. Sì, a parole lo diciamo, a parole sappiamo che viviamo per il regno di Dio, a parole siamo fedeli ai nostri sogni. Però giorno dopo giorno le cose si sbiadiscono e quando ti sembra che si realizzino non ci credi più. E questo è il paradosso di Zaccaria. Chiede una cosa nella preghiera, ma nel suo cuore non crede più che sia possibile. Siamo sbiaditi, abbiamo dei sogni sbiaditi, abbiamo dei desideri sbiaditi, o davvero nelle nostre preghiere sono vere. Cioè stiamo dicendo cose non che sappiamo memoria, non chiediamo per scontate, ma qui crediamo davvero. Ecco, Zaccaria vive di questo paradosso. Chiede, sa che cosa è giusto chiedere, ma ha smesso di crederci. E noi ci crediamo che il Signore può realizzare grandi cose nella nostra vita e che il Signore sta realizzando grandi cose nella nostra vita. E poi c'è una seconda cosa che vorrei sottolineare del testo che abbiamo ascoltato oggi. Zaccaria resta muto. Tutto sembra far pensare a una punizione. Ma che senso ha il mutismo di Zaccaria? Perché non può più parlare? Perché per il fatto di non aver creduto non può più parlare? Perché non puoi dire niente se non parli a partire della fede. Se i nostri discorsi, come Chiesa, come singoli credenti, sono vaghi discorsi di buonsenso, sono vaghi discorsi esortativi, facciamo delle cose tanto carine che vanno bene a tutti, siamo muti, non stiamo dicendo nulla. Il Vangelo è graffiante, il Vangelo è potente, il Vangelo è controcorrente, il Vangelo quando lo senti ti spiazza. Non stai dicendo nulla se nella vita ti limiti a dire cose di buonsenso, cose che possono piacere a tutti. A volte siamo una Chiesa eccessivamente coccolosa e carina che dice tante cose di buonsenso, che fa giocare i bambini nei centri estivi, che fa i babbi natali a Natale, che fa le recite natalizie con i bambini della scuola materna e sono tutte cose bellissime che vanno fatte. E ma non possiamo fare solo quello. Poi dovremmo dire una parola di fede. Cioè la gente sente una parola di fede da noi, se no siamo muti. Sente una visione del mondo dettata dal Vangelo, altrimenti siamo muti. Zaccaria non può più dire niente, non ha creduto. E allora sì, puoi parlare ma non dici nulla di vero. Un sacerdote del Tempio che non ha creduto, non ha più nulla da dire. Noi come singoli, come cristiani e come Chiesa abbiamo ancora qualcosa da dire. Sappiamo dire ancora una parola di fede. Auguro tutti allora una buona giornata di avvento e che sia una giornata in cui rispolverare le grandi cose che il Signore vuole realizzare in noi e che sia giornata in cui proviamo a pensare se abbiamo qualcosa da dire. A tutti una buona giornata.